Come dicevamo, la situazione di forte tensione a livello regionale ha delle ripercussioni anche sulla crisi della nostra giunta del capoluogo che ormai insiste da sette mesi. Proprio nell'ultimo incontro lega locale che si è tenuto lunedì sera è stata ribadita la posizione del sindaco che sosterrà quella del segretario regionale Riccardo Molinari. Insomma, Tosi non si tocca. Questa è la svolta importante. Prima il sindaco sembrava esitante, ora la posizione della Lega è sempre più compatta anche alla luce delle posizioni che sono state assunte recentemente a livello regionale. Fratelli d'Italia, come sappiamo, aveva richiesto proprio le dimissioni o comunque la sospensione dell'attività del attuale assessore al bilancio per fare entrare Paraggio, proprio a coordinare, a guidare i conti del comune e Oliviero che invece attualmente è presidente del consiglio ad occuparsi di urbanistica. Insomma, tutto adesso sembra incrinato mentre Forza Italia di fatto guarda alla finestra e attende che i suoi alleati prendano finalmente una decisione. Sicuramente il tempo stringe. Ora la novità è che Tosi assolutamente non si tocca.